Arriva dalla Caritas di Benevento la proposta di un piano decennale per il rilancio dell'economia. Tante e troppe le famiglie in difficoltà, di cui l'appello del direttore Don Nicola De Blasio a sostenere le imprese e soprattutto le fasce più deboli. Innanzitutto c'è bisogno di pensare una nuova politica economica a 360 gradi, dove al centro non si è messa la finanza ma si è messo l'uomo con la sua dignità. Bisogna guardare l'integralità dell'uomo, quindi andare alla ricerca innanzitutto di chi sta alle periferie, di chi vive alle periferie e chi ha il piccolo passo. Seconda cosa c'è bisogno di immettere nel mercato più liquidità possibile, ma liquidità vera quindi deve essere un aiuto reale e concreto per le piccole e le medie imprese. Secondo un rilancio dell'economia agricola all'interno dei nostri territori, quindi creare delle aree dove realmente ci sia la possibilità di avere uno sconto fiscale e il sostegno delle imprese e soprattutto tutelare i posti di lavoro delle persone più fragili. Quindi fare in modo tale che in dieci anni un piano Marshall vero e proprio della pandemia possa poi riportarci fuori. Dall'inizio dell'emergenza infatti sarebbero aumentate di oltre il 20% le cosiddette nuove povertà. Abbiamo avuto un aumento in Caritas del quasi 12-15% soltanto nella Caritas di Ocesana, ma da quello che mi dicono i parroci che stanno andando anche nelle piccole comunità ormai mancano proprio i beni di prima necessità, mancano le cose essenziali. Siamo arrivati quasi a un 22-23% di aumento delle povertà nel nostro sangue.